Per concludere, per aprire un dibattito secondo me importante, quale deve essere al contrario la risposta? Effettivamente da tempo si dibatte sull'idea di un fondo pubblico, il fondo pubblico in cui però evidentemente si stornano delle risorse dal biglietto aereo per costruire però una responsabilità pubblica in un settore liberalizzato, il che evidentemente stride con la premessa. Io non credo che quella sia la risposta utile. Quale può essere effettivamente la risposta utile? La risposta utile effettivamente la si deve ricercare nei stessi motori di ricerca che permettono oggi di prenotare i voli, una differente opportunità, ricordava il comandante Manera, però non permette di distinguere tra chi offre un servizio d'elite e chi offre un servizio di massa. Il modello industriale del trasporto aereo oggi non può differenziare poi i diritti dei viaggiatori che viaggiano con l'alocosto, ovvero con un vettore di bandiero di riferimento nazionale. Effettivamente il viaggiano ha un diritto costituzionalmente riconosciuto, effettivamente l'Europa vuole inserire il diritto nella mobilità all'interno della Costituzione europea. È importante che ci sia il riconoscimento evidentemente di questo nuovo diritto. Qui ci sono tanti giovani, effettivamente forse parla gente che non ha il medesimo approccio col trasporto aereo perché noi probabilmente siamo arrivati al trasporto aereo tardi. Oggi i giovani i weekend li fanno viaggiando tranquillamente dall'Italia, andando in Spagna, divertendosi, pagando 5 euro. Io sono favorevole all'ipotesi Ryanair di avere l'idea del vettore come evidentemente anche un trasporto aereo di massa che lega di più all'idea della corriera piuttosto che a quella dell'aereo, purché si mantenga ineludibile l'elemento fondamentale che a volte al contrario viene tralasciato, la sicurezza del trasporto aereo. L'elemento fondante nella ricerca del biglietto aereo non deve essere il costo, la puntualità, ma deve essere la sicurezza. E quindi se in qualche modo le autorità di riferimento nazionale riescono a trasferire agli utenti questa idea della sicurezza come elemento fondamentale per la scelta del passaggio aereo, allora è evidente che nel mercato ci possono essere i vari soggetti, le varie offerte e ognuno si rivolgerà a quella offerta che ritiene più appagante per le proprie tasche, per i propri bisogni. È evidente che in questo mercato c'è spazio per tutti proprio perché poi alla fine è un mercato in crescita. Nell'ambito di tutto questo è evidente che già oggi le società low cost e quanti altri ragionano in termini assicurativi. Quindi effettivamente se uno fa una ricerca nel motore di ricerca, ma è capitato anche a me, portavo la famiglia in Germania, evidentemente tranquillamente ci si può assicurare sul biglietto aereo. Cioè se io quel giorno non riesco a viaggiare per un impedimento legato a una impossibilità familiare, evidentemente nell'ambito di quelle che possono essere le clausole assicurative trovo ristoro del prezzo del biglietto nell'ambito di quell'elemento assicurativo che implementa il costo del biglietto. È tutto qui. Quindi evidentemente forse dovremmo ragionare in termini più semplici, termini più semplici che possono permettere al nostro sistema Paese, al nostro legislatore, di anticipare anche l'Europa. Nulla vieta che il legislatore nazionale inserisca una norma che in qualche modo possa completare la regolamentazione comunitaria che in particolare per quanto riguarda la cancellazione non imputabile addebita evidentemente al vettore questo tipo di responsabilità. Ma non è una responsabilità non assicurabile perché se c'è la possibilità, se del caso di caricare sul prezzo del biglietto questo maggior costo, questo maggior onere, è evidente che si può trovare una risposta facile a un problema difficile. è probabilmente sollecitare l'Europa a dare una risposta adeguata a quelle che sono esigenze. È evidente che la stessa Europa sta riflettendo molto sui problemi legati ai risarcimento e ai ristori del passeggero ed è altrissì vero quello che diceva all'inizio l'onorevole Valducci. Attenzione che non è un ristoro di massa. Alla fine è evidente che c'è anche in questa ipotesi una difficoltà del passeggero che non ha, oppure che è soggetto al disservizio nel raggiungere l'obiettivo del ristoro perché poi anche lì gli si frappone tutta una pastoglia di carattere burocratico, questa volta non statale ma di carattere privatistico. Ecco io credo che la semplificazione del rapporto nell'introdurre evidentemente l'elemento assicurativo come elemento che lega due esigenze. L'esigenza privatistica evidentemente di sviluppare un business nell'ambito del corretto e del giusto sopportando quei rischi che è giusto sopportare, trasferire evidentemente quella tutela al passeggero vittima di un disservizio però non imputabile al vettore in un sistema di tutela comunque di carattere privatistico in un mercato liberalizzato, credo che questa non possa essere colta come un'opportunità e un'altra evidente sensibilizzazione da parte del sistema italiano al sistema comunitario che effettivamente regola sempre più questo settore a volte con alcuni errori. Grazie. Grazie Avvocato Di Palma, è giusto, l'importante è che il consumatore possa scegliere. La professoressa Rabitti vuole aggiungere qualcosa, poi l'Avvocato Pierallini per le conclusioni e la sua relazione su questa parte. Scusate, da cittadino vorrei dire che la cancellazione non imputabile e la responsabilità del vettore costituisce sicuramente per i vettori un grandissimo problema, ma ancora una volta io ritorno sul punto che devono dare prova, anche per eventualmente graduare l'entità della sanzione, di essersi organizzati in modo da ovviare nel miglior modo possibile al problema. Quindi non una responsabilità oggettiva in capo al vettore, ma una responsabilità connessa. So che non tutti sono da cittadino, da cittadino spiegherei questo, che intanto si organizzassero, dopodiché il legislatore può pure esonerarli da responsabilità. Ma insomma, oh, e per quanto riguarda l'assicurazione, sono concordo con la proposta di Di Palma, lo costo di assicurazione è ovvio che è una voce che si aggiunge al costo. Noi diciamo che il costo deve rappresentare il costo complessivo. Deve essere chiara poi che c'è una voce di assicurazione, perché questo è un problema rispetto ai rimborsi in cui il consumatore vede un rimborso consistente in una cifra di molto inferiore a quanto è effettivamente pagato, confidando in quello che era stato pubblicizzato anche su internet. Grazie.